Buongiorno, professor Schenck. Buongiorno a lei. Desidera? Le dispiace farmi entrare un momento, per favore? È un po' tardi, stavo uscendo. Si accomodi, comunque. Prego, entri. D'accordo. Lei resta qui. Sì, chi è? Sono Derrick, il suo vicino, signora Schenck. Eh, signor Derrick, arrivo subito, un momento. Sì, grazie. Tu sei qui. E perché non entri? Su, avanti, vieni a prendere i tuoi quaderni. Signor Derrick, voglio che il signor Derrick venga con me. Con vero piacere. Prego, venite. E dopo molti anni sono riuscito anche ad entrare in questo palazzo e avere l'autorizzazione e l'ok per fare il video. Questa è l'abitazione, solo per l'occasione di questo episodio, dell'ispettore Derrick, quella è l'abitazione dove abitava il professore Cornuto. Sulla sinistra invece è stato installato l'ascensore moderno, ecco qui precisamente come si presenta nel 2022. Comunque vedete che gli infissi e quant'altro sono rimasti quelli dell'epoca. Anche i vetri mi hanno confermato il signore anziano che abita proprio in questa residenza, che è rimasto tutto come all'epoca. Qui abitava il professore, la Derrick, e guardate anche la finestra in alto al fianco della porta di Derrick, è rimasta la stessa. Confermato dagli stessi proprietari dell'appartamento, insomma, del palazzo. Abbiamo bevuto ed eravamo tutti un po' brilli, lui compreso. Non l'avevamo mai visto così. Ci dava ragione qualsiasi cosa dicessimo. E noi insistevamo. Prenda la macchina e vada da lui. Gli dia una bella strapazzata. Gli dimostri che non la può trattare, come gli pare. Allora Adrian gli fa, dove ha la macchina? Ce le ha in tasca le chiavi? Noi eravamo molto contenti di averlo convinto. Gli abbiamo aperto lo sportello della macchina e l'abbiamo fatto salire. Avete ragione, ci fa lui. Ora gli dimostro che non può trattarmi, come gli pare. Poi, mezzo ubriaco com'era, ha ingranato la marcia ed è partito. Quello adesso ci conviene un guaio. E io dico che adesso gira la macchina e torna indietro. Ma va! Io dico che ci va. Ma certo che ci va. No, 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 io dico che ci va. Ma no, ci va, ci va. No, 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 no. No, 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 no. Salimmo in macchina. Sous-titrage ST' 501 ...